www.umolizopoli.it, in edicola settimanale Montopadano, anche in digitale, non solo in edicola, su www.umolizopadano.it, in certo economia di lavoro, ecco qua, nuovo articolo di Giosi Gionbelli, educatore e consulente finanziario, nella rubrica risparmio e finanza, e ci parla della cicala e la formica, la cicala formica e i trend. La favola di Esopo, molto affine ai concetti di risparmio e investimento, è attualissima. Non dobbiamo pensare al sacrificio di oggi, ma alla realizzazione del nostro futuro. Un piccolo spoiler, è l'ultima frase dell'articolo che invitano a leggere, che dice, morale della favola di Esopo, che non fa nulla, nulla ottiene, direi una buona lettura sia in cartaceo che in digitale, ma sulla favola di Esopo ha portato risparmio e finanza. Direi una buona lettura, alla prossima!